Secondo me non si sta rivolgendo nella tomba un bucana, ma non possiamo sapere. Secondo me non si sta rivolgendo nella tomba un bucana. Secondo me non si sta rivolgendo nella tomba un bucana. Secondo me non si sta rivolgendo nella tomba un bucana. Secondo me non si sta rivolgendo nella tomba un bucana. Secondo me non si sta rivolgendo nella tomba un bucana. Secondo me non si sta rivolgendo nella tomba un bucana. Grazie a tutti.